Prestazione corposa, Cappelletti ritorna da Henderson, palleggio, arresto, tiro, questo è troppo perfetto. Gestire per Carvel Henderson, si alza da tre punti, eccolo qui Carvel Henderson, con la tripla. E si riprende a giocare sul più cinque per Brescia, con ancora Henderson, Guotugai. Henderson in campo, eccolo qui, che prova a ricevere con la ricezione, si alza Henderson da tre, Carvel, Marquise.